Come avete visto dal titolo, questo è un libro diverso dal solito. Come in alto vuol dire dichiarare qualcosa che si tende a nascondere in pubblico o anche in privato per paura delle ricavute sociali. Una di queste cose è la salute mentale. Sono una persona con diagnosi dello spettacolo autistico e diagnosi di iperattività. Non sono diagnosi di iperattività. Fin dall'infanzia sono seguito dal servizio sanitario della mia regione. Tendo a non dirlo alle persone che incontro, non importa il contesto, non importa da quanto tempo le conosco. È una cosa intima, carica di tantissimi pediudizi e disinformazioni. Parlo solo in contesti che sono sicuro che non ci hanno delle ricavute oppure con persone oppure lo confido solo con persone con cui ho una relazione stabile. Questo video è necessario, come premessa, per altri video che non c'erano di fare. È il primo passo per un sentivo diverso per il mio canale. Grazie per l'attenzione.